Ciao, sono Nicoletta Todesco e da qualche anno collaboro con i corsi di formazione con la FIAIP. Adoro il mondo degli agenti immobiliari perché è un mondo in cui ogni giorno ci si confronta, anche in un mercato duro come può essere ora, con la comunicazione, con la vendita, con la persuasione nei confronti del cliente. E proprio per questo la FIAIP di Padova e la FIAIP anche di Rovigo hanno deciso di organizzare una giornata sulla comunicazione, una giornata sulla programmazione neurolinguistica. Come essere più impattanti, come utilizzare quelle strategie per entrare più in sintonia e in empatia con il nostro cliente, con la persona che magari viene a chiederci informazioni, che ci mette in mano i suoi sogni perché sta cercando una nuova casa, un ufficio, un'abitazione. Come essere più impattanti, come essere più incisivi. Conoscere quelle strategie di programmazione neurolinguistica, che è un parolone immenso in realtà, alla fine sono tecniche proprio per essere più performanti, può essere veramente molto molto utile nella tua professione. E ho notato come a volte quel centimetro può fare la differenza. La conoscenza, il dire la parola giusta al momento giusto può fare la differenza. Ti faccio solo un esempio. Ti è mai successo che magari vedisse da te una persona e ti dicesse, sto cercando la casa dei miei sogni. E un tuo collaboratore rispondesse, certo ho l'immobile giusto per lei. Più degli occhi per un istante. Pensa al termine casa. Ora, pensa al termine immobile. È la stessa immagine? Sembra una banalità. Come riuscire ad utilizzare al meglio, in modo spontaneo, delle strategie, delle risorse, può essere veramente molto molto utile. Io ringrazio tantissimi presidenti della FIAP che ci danno sempre fiducia e che rivolgono e investono sui loro associati proprio per permettere loro di avere quegli strumenti per essere più efficaci. Ti darò tutta la mia esperienza di vent'anni con veramente incisività perché amo far capire alle persone come con gli strumenti giusti si può veramente ottenere qualcosa di diverso e fare un passo oltre. Ci vediamo il 7 e da Nicoletta è tutto a fra qualche giorno. Grazie.